Come ti chiami? Ottavio D'Antone. Alessandro Tampieri. Che lavoro fai? Musicista a tutto fare, clavicebalista, organista, direttore d'orchestra e altro. Sono musicista, violinista, primo violino e concertmaester di Accademia Bizzantina. Colore preferito? Verde. Suono alla viola d'amore e mi piace il viola. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo. Il futuro e il mio mestiere di Elena Inzaghi. Qual è il brano a cui sei più affezionato? Forse il concerto in fa minore per clavicembo e l'orchestra di Wilhelm Friedman Bach. Il concerto per guerra d'amore di Vivaldi. Quando eri bambino, cosa volevi fare da grande? Da bambino? Io volevo fare musicista. Esattamente quello che faccio. Hai rinunciato a qualcosa per la musica? Assolutamente no. A niente di determinante, nel senso che le rinunce che ci sono state poi dopo mi hanno ripagato in maniera abbondante. Cosa ti ha dato la musica di inaspettato? Mi ha dato la corsa. Mi ha dato la voglia di incominciare a vedere i posti dove andavo, a correre. Qualche soldino in più di quello che pensavo. Quando un musicista sogna c'è la colonna sonora? Penso di sì. A me la colonna sonora è 24 ore al giorno. Ah, certamente. Quando si sogna c'è la colonna sonora. Il problema è che molte volte poi non ci si ricorda esattamente che tipo di colonna sonora era. Come te la cavi in cucina, cosa ti piace cucinare? Sì, mi piace cucinare, ma ho un difetto. Non seguo mai le ricette. Ma abbastanza bene, dicono. A me piace creare, improvvisare con quello che c'è a disposizione, soprattutto quando il frigo è semivuoto. Quale brano avresti voluto scrivere? Un qualsiasi madrigale di Claudio Monteverdi. Vaterunzeri Nimmelreich BWV 682 per organo di Bach. Non so se ho pronunciato bene, però. Oltre a suonare, cosa ti piace fare con le mani? Sbucciare i piselli. Magari un po' di orto non mi dispiacerebbe. In compenso, con le gambe mi piace correre. Non so se si era capito. Come ti immagini un concerto tra dieci anni? Spero non con la mascherina. Sarà sicuramente come un concerto qualche mese fa. Ottavio, ti manca Alessandro? Molto. A parte musicalmente, lui è una carica di energia e ottimismo costante. Alessandro, ti manca Ottavio? Certamente che mi manca Ottavio. Io credo che la prima volta che ci rincontreremo, dopo questa pausa forzata e lunga, sarà un'esperienza meravigliosa e sarà un'esplosione di energia incontenibile. La prima volta che ci rincontreremo, dopo questa pausa è un'esplosione di energia incontreremo. La prima volta che ci rincontreremo, dopo questa pausa è un'esplosione di energia incontreremo. La prima volta che ci rincontreremo, dopo questa pausa è un'esplosione di energia incontreremo.